Col tecnico del Cosenza Calcio Femminile Luisa Orlando per commentare la larga vittoria delle Lupe per 18-0 sul Rende. Penso sia soddisfatta della prestazione, mister. Sì, assolutamente. Sono molto contenta di come le ragazze hanno interpretato la partita, era quello che volevamo per dare anche un segnale a questo campionato e quindi speriamo di continuare a crescere ancora. Prendo spunto da un'osservazione di Riccardo Tucci, solo Cosenza che voleva sapere come ha visto le esordienti al debutto in Rosso Blu. Sono davvero contenta, hanno sia Sara, Rebecca, ma tutte le altre hanno reagito molto bene alla convocazione, si stanno allenando con noi, sono sempre sul pezzo e oggi tant'è che anche il campo le ha premiate con dei gol e quindi tutta la squadra è contenta per loro. Leggerò anche la domanda di Martina Miglia di Cosenza Posto che ha visto la partita, mister è una vittoria fondamentale che vale come un riscatto dopo la partita sfortunata contro il Coscarello. Tecnica ed esperienza hanno fatto certamente la differenza, si riparte da qui? Si riparte sul dente da qui, era importante dare un segnale come ho già detto prima, le ragazze lo hanno interpellato bene e spero appunto di crescere ancora perché c'è ancora tanto da lavorare e tanto da crescere. I prossimi impegni sono col Borgo Crecanico e la Cittanovese, dopo si rigioca col Coscarello, tutto lascia pensare che sarà un duello fino alla fine proprio per aggiudicarsi la promozione finale? Si, si, il duello è tra noi e il Coscarello e speriamo insomma di riuscire a ribaltare il risultato di domenica scorsa e di dare soddisfazione soprattutto alle ragazze e al grande lavoro che stanno facendo e all'impegno che ci stanno mettendo. Grazie mister e forza Lupe! Grazie a voi e forza Lupe sempre! Grazie a voi e forza Lupe!